Ci troviamo presso la chiesa del Santissimo Crocifisso de Pirrei a Termini Marese che da poco è ritornata al culto, anche se ancora lavoro ce n'è tanto. Ma ci spiegherà tutto quello che è successo, tutto quello che hanno fatto. Gaspare Continuo, che è il nuovo presidente di questa, chiamiamola, associazione, che ha riscoperto questa chiesa nei propri valori e ha voluto con lui tante persone accanto per aiutarlo affinché naturalmente questa chiesa possa un giorno ritornare a avere il suo vero e proprio culto. La chiesa del Crocifisso dei Pirrei sta rivivendo a Termini Marese. Grazie alla parrocchia soprattutto e grazie a Padre Giorgio naturalmente e a Gaspare Continuo. Grazie e soprattutto come hai detto benissimo Padre Giorgio che la chiesa appartiene alla Consolazione e anche su sua iniziativa nel salvare questo patrimonio non artistico tanto ma storico e religioso perché qua in questa chiesetta dove ai tempi sorgeva una pirrera, per questo il Crocifisso dei Pirreri è il protettore degli scavisti, di coloro che lavorano la pietra del 1700, la chiesa. La leggenda dice che mentre c'era la cava, ora qui si trovano questi palazzi, le case, ma prima era tutta cava anche all'interno della chiesa dove si può notare alle spalle dell'altare maggiore alcuni pezzi di questa cava dove la leggenda dice che mentre scavavano hanno trovato il prodigioso crocifisso. Questa di qua è la gigantografia del Santissimo Crocifisso dei Pirreri che l'originale si trova nella Sacrestia di San Carlo. Speriamo che ritorni di nuovo anche qui in questa chiesa collocato nel suo giusto posto. La chiesa del Crocifisso dei Pirreri per tante persone è stato un punto di riferimento soprattutto nella preghiera e nell'affidarsi a questo Santissimo Crocifisso, nelle piaghe di Gesù. Antichi e figli di queste persone anziane ci raccontano che quando i mariti o i figli andavano in guerra venivano qui a pregare il Santissimo Crocifisso dei Pirreri perché prima non c'erano tutta questa tecnologia di ora si partiva ma non si sa se si ritornava e per grazia di Dio ritornavano sani e salvi nelle proprie case. Oppure anche punto di riferimento per i pescatori perché ora il palazzo blocca tutto ma al posto del palazzo c'era praticamente la visuale del mare e i pescatori si affidavano anche al Santissimo Crocifisso nella pesca. Ecco, ed era anche prodigiosa questa preghiera e benedizione. Questa iniziativa dopo tanti anni, 28 anni fa come sapete la scuola Cantieri di allora ecco entravano, distruggevano e si chiudevano le chiesette. Ora è arrivato il punto per dire a termini merezze che esiste anche questa chiesetta sconosciuta dai termitani perché anche il posto via Coppola, via Errante è sconosciutissima perché tanti dicono ma esiste lì una chiesa, questa chiesa che all'incirca un 90 posti a sedere ecco rende ecco anche grazioso un momento di preghiera nell'unire tante anime. Cosa abbiamo fatto noi? In questo periodo di agosto specialmente quest'anno hanno portato il simulacro della Madonna Assunta siccome non c'era posto dove collogarlo dentro una casa abbiamo detto apriamo questa chiesetta vediamo le condizioni, le condizioni pessimissime. Era la casa, era un colombaio qui dentro. Per grazia di Dio ho fatto un appello sia a Padre Giorgia, a tanti parrocchiani e a coloro che sono qua nel vicinato nel sottoescriverci salviamo la chiesa del crocifisso dei Pirreri e per grazia di Dio sono 30 iscritti si possono dire 30 famiglie che ogni mese sostengono la chiesa tassando praticamente con un'offerta il sonvenzionamento ma soprattutto c'è anche la manovolanza che tanti mettono a disposizione chi è muratore, chi è manuale, chi è pensionato che viene qui per dire facciamo qualcosa di grazioso e piano piano quello che raccogliamo andiamo a spendere. La cosa molto particolare è questa, dobbiamo salvaguardare bene questo tetto e quelle che sono anche il campanile e le mura perimetrali quello che noi stiamo facendo è appunto questo un appello anche a tanti faremo anche delle raccolte per la città nei negozi, nei quartieri per raccogliere qualcosa per sistemare alla migliore maniera questa chiesetta che non è inagibile ma è agibile perché il pericolo maggiore lo abbiamo levato per grazia di Dio. Quello che poi abbiamo nel nostro programma è questo già ogni venerdì alle ore 21 al suono della campanella si radunano qui fedeli del vicinato per la recita del Santo Rosario speriamo e questo si attui anche all'anno nuovo nel 2013 con anche con il patrocinio del Comune di Termini Merese di fare un oratorio qui due volte a settimana per i bambini abbiamo fatto noi un giro nei quartieri, abbiamo 26 bambini nella zona che vogliamo fare qualcosa di grazioso allora la chiesa serva sì per un momento di preghiera ma anche per un'aggregazione ecosociale per questi bambini e perché no? speriamo che vengano anche altre iniziative noi la chiesa e Padre Giorgio è anche consensente a tenerla a disposizione per tutti coloro che la vogliono usare sia come momenti di preghiera e sia anche nel sociale perché anche questo fa parte della nostra religione io nelle preghiere affiderò anche a tutti coloro che veramente di cuore ci daranno questa mano d'aiuto e che non si chiuda più soprattutto per tenerla come nostro patrimonio storico, artistico e religioso e veramente come avevano quella fede gli anziani nel rivolgersi a Santissimo Crucifisso dei Pireri vogliamo ecco ora anche recitare questa preghiera antichissima in dialetto siciliano nella quale racchiude tanto in quelle persone che venivano a pregare qui questa preghiera ce l'hanno fatto proprio avere alcune persone anziane che i loro nonni li portavano qui la domenica mattina per la recita della messa e insieme al sacerdote recitavano questa preghiera che noi continuiamo a dire sempre per ottenere grazie e benedizione salute e provvidenza e soprattutto ecco sostegno anche nel cammino spirituale per concludere questo che vediamo qua dietro alle nostre spalle è una raffigurazione del vero e proprio crucifisso che è quello che è stato trovato qua ed è quello dei miracoli attualmente si trova nella parrocchia di San Carlo l'obiettivo rimane di riportarlo qua e noi ci speriamo tantissimo e speriamo veramente al più presto cerchiamo per ora di rendere ecco la chiesa decorosa metterla in sicurezza anche come infiltrazioni di acqua ed altre cose e anche sistemare l'altare maggiore nel suo decoro ecco per una celebrazione e per ecco far entrare il Santissimo Crucifisso e collocarlo soprattutto in un posto ecco dignitoso e molto bello e speriamo al più presto O Crucifisseduri Pirreri Vinemo tutti quanti all'Itoperi Pa' domannare i grazi in quantitati Pa' saluti, a provvirenzia e pace all'umanità Tu che sei un re di tutti i re E governi un munno e tutto l'universo Cu' tanto amuri, a cu' si benigno Facci campare in tala tua grazia Sempre i più vicini all'Uto Regno